Fine settimana dopo fine settimana, le festività entrano sempre più nel vivo. Domani l'atmosfera, in particolare, si farà ancora più natalizia nel capoluogo. Appuntamento alle 17.30, appena sarà buio, insomma, in piazza Campello, per l'accensione delle luci del videomapping Sondrio, la magia del Natale. Una proiezione unica nel suo genere che richiederà di fermarsi a guardarla per tutta la sua durata, circa 7 minuti, e che sarà riproposta ogni 20 minuti. Il videomapping è una forma particolare di realtà aumentata che arricchisce la percezione sensoriale attraverso un sistema di proiezione con informazioni aggiuntive rispetto a quelle percepite dallo spettatore. Se scopri la magia del Natale, l'invito rivolto dall'amministrazione comunale e residenti di qualcosa di magico realmente si tratta. Sulla facciata di Palazzo Pretorio si potrà ammirare un'animazione della favola di Natale con ambientazione sondriese per valorizzare le bellezze della città attraverso una visita virtuale. Ma se il Natale quando arriva, arriva, è anche vero che a Sondrio non è Natale soltanto in centro. Grazie al progetto La Nuova Piastra e ad alcuni commercianti del quartiere sono state infatti posizionate le decorazioni natalizie lungo tutta la via Maffei fino all'area in fase di ristrutturazione del centro commerciale. È stato pulito e sistemato il presepe sulla passerella pedonale e nell'area del patinodromo, vicino alla casetta di legno, i volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta stanno allestendo alcune sorprese per i più piccoli. E proprio in vista delle feste, alcuni abitanti del quartiere coinvolti nelle iniziative di cittadinanza attiva volute dal comune hanno deciso di organizzare una giornata ecologica di pulizia dell'area della Piastra. Per tutti coloro che volessero partecipare, ritrovo le 10 di domattina al patinodromo. Sempre domani, il secondo dei tre pomeriggi di attività laboratoriali dove creatività, immaginazione e fantasia saranno declinate in tema natalizio. I tre laboratori sono dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni che potranno preparare i regali di Natale per amici e parenti. Appuntamento all'Infopoint La Nuova Piastra sulla passerella pedonale dalle 14.30 alle 16.30. E non è Natale senza doni e proprio per questo anche quest'anno in mensa la mensa solidale della Piastra organizza la raccolta dei pacchi dono e riempie una scatola solidale. Fino al 22 dicembre si possono lasciare i pacchi dono con un riferimento per capire a chi donarli va specificato dunque donna, uomo, bambino ai locali di Immensa il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 14.00. E sabato prossimo, 18 dicembre alle 18.00 la Piastra si concluderanno gli eventi con il concerto di Natale. Mara Sottocornola e Renato Caspani dell'Accademia Musicale La Motta aspettano tutti per festeggiare con Bimbroulet Cioccolata al parchetto di Via Maffei